Ciao, io sono Giulia e ho appena terminato il percorso di studi di alta formazione di sistemi mecatronici e automazione. Questo è un percorso di due anni che si interpone tra il lavoro e lo studio scolastico. Questa è un'interazione che aiuta molto lo studente perché aiuta ad appurare ogni materia studiata e sviluppata durante l'anno, come PLC, automazione in generale, sistemi pneumatici, robotica, meccanica, disegno e progettazione. Ho effettuato il mio tirocinio presso Dana e il mio progetto l'ho sempre sviluppato in quell'azienda. Io ho portato come progetto finale l'interazione in azienda degli smart glasses muniti di realtà aumentata come assistenza all'operatore durante una fase di montaggio dei nostri assali. Questo mi ha aiutato appunto a sentirmi anche più sicura nel mondo del lavoro e infatti ancora prima di finire il percorso mi era già stato chiesto di lavorare presso la ditta e quindi è un percorso valido che è così a tutti.